Ha suscitato un polverone di polemiche il lodo Mondadori? Quello che è noto come lodo Mondadori era in realtà una norma giusta secondo me perché c'è spesso la situazione sperequata a danno di colui che paga che non riesce a recuperare quanto ha pagato a seguito una sentenza di primo o di secondo grado che poi viene modificata nel grado successivo. Io credo che pensare a una situazione definita da parte della giustizia ordinaria un obbligo di pagamento conseguente salvo casi eccezionali e comunque in questo caso erano garantiti dal versamento di donne a cauzione sia un atto di giustizia che poi il momento fosse magari poco opportuno perché tutti hanno pensato di avvicinarla alla situazione che riguardava Mediaset è un altro dato di fatto, però la norma era obiettivamente condivisibile.